Sono sicuro che in questo momento Tetsuya non sarà affatto contento. Hayato, Musashi, avanti! Dimostriamogli cos'è capace di fare la squadra getta! Ehi, è quello così! Ehi, sta scappando! Allora è questa la forma dell'oggetto non identificato. Hayato, Musashi, andiamo! Ma chi ne zetta? Siete arrivate troppo tardi! Illuso! Non riuscirai a sconfiggerci! Lannato! Hayato! Hayato! Come va? Tutto a posto? Va bene, non preoccupatevi. Maledetta! Adesso te la dovrai vedere con me! No, fermati, Musashi! Se attaccherai quel mostro da solo, verrai sicuramente distrutto! Uniamoci in getta uno! Cambio in getta uno! Accanto! Ragazzi in getta uno! Dannazio, è velocissimo! Le notti dei super robot al cinema! Ma oggi! Ateni in getta uno! Ma oh!